Il miglior biglietto da visita è il vostro sorriso. Dental City offre la forma più completa di servizi e specializzazioni in ambito odontoiatrico. Il dottor Pasquali, specialista in ortoniato donzia, dirige uno staff altamente professionale che si avvale anche della consulenza delle migliori università italiane. Se cerchi specialisti in ambito medico, chiama CityMed, centro medico specialistico. Tanti professionisti esperti e con esperienza impegnati nella ricerca e nello studio delle più aggiornate tecniche e terapie mediche. Dental City e CityMed, a Monte Cassiano, presso il nuovo centro commerciale, in via Mainini 79. Siamo tornati di nuovo in studio, sempre con il dottor Morabito e il dottor Nocchi per parlare dell'innovazione tecnologica e dell'intelligenza artificiale in neurochirurgia e come di consueto nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Dottor Morabito, iniziamo da lei. Abbiamo Martina Di Pitino che dice Quali sono le principali novità in ambito neurochirurgico? Secondo me l'intelligenza artificiale è la principale novità su cui sta battendo la curiosità e lo sforzo di trovare delle applicazioni, proprio perché è molto moderna ed è molto alla moda. Poi abbiamo Marco Di Macerata che chiede l'intelligenza artificiale. Come può essere implementata in ambito medico? Da un punto di vista soprattutto consultivo. C'è un'applicazione che ha recentemente acquistato la regione Marche che serve a reclutare e selezionare i pazienti con ictus che debbano essere inviati al centro AB per eseguire la trombectomia meccanica, cioè attraverso il neuroradiologo a spottare il trombo il più precocemente possibile. Questo migliora l'efficacia e la velocità nel decidere questa patologia e il trattamento di questa patologia e permette anche in ospedali dove non sia presente un neuroradiologo, un neurologo e un esperto di ictus di poter fare una scelta. Quindi già le applicazioni dell'intelligenza artificiale sono uno strumento estremamente utile nel velocizzare e nel rendere più efficienti alcuni processi del trattamento medico. Bisognerà vedere come selezionare queste utilità. Certo, bene. Dottor Nocchi, abbiamo Michele Di Montecassiano che dice sono un ragazzo di 26 anni e studio le applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito chirurgico e chiede un approfondimento sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la cura del sistema nervoso centrale. Sì, l'intelligenza artificiale in ambito neurochirurgico nel mondo oggi viene usata prevalentemente in due ambiti. Il primo è quello della ricerca perché permette di valutare e studiare in tempi molto più rapidi moli enormi di dati e quindi permette ad un ricercatore di arrivare a conclusioni, a risultati molto più rapidamente. E l'altro campo di utilizzo importante è quello della pratica clinica. Non viene ancora oggi utilizzata rutinariamente, ma ci sono nel mondo tantissimi progetti di ricerca che usano l'intelligenza artificiale per esempio per facilitare o rendere più precisa la diagnosi di un determinato problema neurochirurgico, per esempio oncologico, oppure per permettere al chirurgo di avere più strumenti possibili per sapere se operare o meno quel determinato problema. Per esempio, se sappiamo grazie all'intelligenza artificiale che quel determinato aneurisma che ancora non si è rotto è a più alto rischio di sanguinamento, potremmo intervenire con maggiore tempestività. E poi, come del resto avevamo già anticipato, può dare delle informazioni sulla prognosi dei pazienti. Se io so che un paziente con un determinato tumore cerebrale rischia una prognosi peggiore, già in partenza, posso già regolare il tipo di intervento chirurgico che eventualmente andrò a fare nei suoi confronti. Certo. Poi abbiamo Sara Diascoli Piceno che chiede, i disturbi vascolari possono essere curati attraverso le nuove tecnologie in ambito neurochirurgico? Sicuramente sì. Sarà con l'intelligenza artificiale, per esempio, sempre più probabile sapere quale potrebbe essere il comportamento di una determinata malformazione vascolare e quindi agire con sempre maggiore tempestività o, per esempio, decidere anche di non operare malformazioni che magari oggi opereremmo e che invece l'intelligenza potrebbe riscontrare a bassissimo rischio di sanguinamento. In futuro non sappiamo bene cosa ci dirà. Oppure, per esempio, andremo incontro a microscopi operatori, a esoscopi, a strumentari di qualità, di precisione, di capacità di ingrandimento e visualizzazione del campo chirurgico sempre migliori che permetteranno di operare con una precisione ed un'accuratezza ancora maggiore rispetto a quella odierna. Bene. Poi, dottor Morabito, abbiamo Anna Di Pesaro che chiede, la neurologia in cosa si distingue dalla neurochirurgia? La neurologia è la branca internistica che studia le patologie del sistema nervoso. È un po' come se dovessimo fare un paragone fra la medicina interna, quindi una disciplina che utilizza una terapia medica per trattare le patologie rispetto a una chirurgia che è invece la branca che si occupa di quelle patologie che hanno una soluzione chirurgica e che hanno necessità di un trattamento chirurgico. Quindi sono ben distinte sia come tipologia di patologie che come discipline. Certo. Bene. Dottor Nocchi, abbiamo Rita Di Recanati che dice Ho sentito dire che il neurochirurgo si occupa anche di disturbi legati alla colonna vertebrale. Il chirurgo ortopedico che si occupa della colonna vertebrale può essere considerato un neurochirurgo? Allora, la risposta è no, perché l'ortopedico, se si occupa di colonna vertebrale, magari è un ortopedico vertebrale dedicato a quella specifica patologia. non è neurochirurgo. Determinate patologie della colonna vertebrale, alcune forme oncologiche, i traumi o per esempio la patologia degenerativa della colonna, possono essere gestite sia da alcuni ortopedici specificamente dedicati sia dai neurochirurghi. Però per esempio quando si tratta di problematiche più prettamente del midollo spinale, allora ormai, tranne pochissimi centri dedicati di carattere ortopedico, sono appannaggio del neurochirurgo. Certo. Bene. Poi, Dottor Morabito, abbiamo Mattia Di Fano che dice I disturbi del sonno possono essere trattati con le nuove tecnologie nell'ambito dell'intelligenza artificiale in neurochirurgia? Una domanda complessa nel senso che i disturbi del sonno non hanno di solito una base chirurgica, quindi non hanno un trattamento chirurgico se non in alcune forme di apnee dove però l'intervento non è di tipo neurochirurgico ma è un intervento di disostruzione delle vie aeree che generalmente viene fatto da otoridi dedicati. In quest'ambito l'intelligenza artificiale può avere un valore di tipo consultivo come quello che spiegava il Dottor Nocchi. Quando tu introduci una quantità di dati più ampia possibile e un software o un algoritmo ti ritorna qual è la soluzione migliore per quella tipologia di problema, alla fine l'intelligenza artificiale può avere un ruolo nel decidere quali saranno le soluzioni migliori tra scelte di posturali, di vita, di correzione fisiatrica di un problema del sonno oppure di correzione chirurgica che però non è strettamente neurochirurgica. Dottore ecco al termine di questa seconda parte possiamo dire che l'intelligenza artificiale è una risorsa? Direi che l'intelligenza artificiale è sicuramente una risorsa tecnologica che andrà sviluppata. Non credo si debba ostacolarla perché tutto quello che fa parte dell'innovazione in qualche maniera va accolta va governata, governata sia dal punto di vista della utilità nel risolvere dei problemi come tutta la tecnologia ha dimostrato di essere, sia nell'affidabilità cioè nell'aspetto di reale utilità verso i pazienti e verso i medici che trattano i pazienti quindi con un aspetto etico. non dimentichiamoci che l'algoritmo dell'intelligenza artificiale è in fondo stabilito da qualcuno che può decidere di dare una priorità che può essere quella del risparmio, quella del risparmio degli esami, quella dell'interesse del paziente. Quindi come viene costruito l'algoritmo dell'intelligenza artificiale è una responsabilità etica che poi andrà filtrata da chi si occupa di medicina. Comunque l'impatto economico è importante dottore? L'impatto economico non ha mai trovato dei grossi problemi. La tecnologia in medicina ha sempre pagato quando è stata selezionata e quando è stata scelta per delle reali soluzioni di problemi ha sempre reso un costo minore in termini di assistenza, in termini di gravità di patologia e in termini di invalidità dei pazienti. Perché non dimentichiamoci che la malattia rappresenta un costo, una soluzione della malattia rappresenta una risorsa. Certo, certo. Bene, quindi sono molti i benefici di questa intelligenza artificiale. Bene, noi ci fermiamo qualche secondo per una piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi, torniamo subito. Il miglior biglietto da visita è il vostro sorriso. Dental City offre la forma più completa di servizi e specializzazioni in ambito odontoiatrico. Il dottor Pasquali, specialista in ortoniato donzia, dirige uno staff altamente professionale che si avvale anche della consulenza delle migliori università italiane. Se cerchi specialisti in ambito medico chiama CityMed, centro medico specialistico. Tanti professionisti esperti e con esperienza impegnati nella ricerca e nello studio delle più aggiornate tecniche e terapie mediche. Dental City e CityMed a Monte Cassiano, presso il nuovo centro commerciale, in via Mainini 79. Siamo tornati di nuovi studi e siamo giunti al termine della trasmissione. Ringraziamo il dottor Morabito e il dottor Nocchi per essere stati qui con noi. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento. Partorire in modo naturale e senza dolore è possibile sempre mercoledì alle 20.50 sul canale 13, in replica il giovedì alle ore 18.00, e la domenica mattina alle ore 11.50. Vi ricordo inoltre che potete inviare le vostre domande come sempre alcuni giorni prima la missiononda della trasmissione telefonando al numero 071-7570-002 o 7570-003, altrimenti potete inviare un'e-mail a canalesalute.it. Vi ricordo inoltre che tutte le puntate possono essere riviste su YouTube oppure sulla nostra nuova app MyTVRS e che tutti gli aggiornamenti li trovate su Facebook Canale Salute. Arrivederci alla prossima settimana! Grazie a tutti!